cari aspettatori e cari ascoltatori buonasera eccoci qui per par condicio qualcuno si è lamentato perché l'altro giorno registravo dal parcheggio ciao diego benvenuto qualcuno perché registravo al parcheggio della lidl e quindi sembrava una pubblicità per par condicio oggi vi sto registrando dal parcheggio ls lunga sempre di aprilia in questo modo praticamente giro l'arco istituzionale dei supermercati benissimo e quindi spero sempre che mi comunichiate se si sente bene se la linea è chiara ma direi di sì continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'età dei guelfi dei ghibellini e soprattutto delle guerre che dante ha di cui ha sentito parlare che ha descritto e che ha soprattutto vissuto nell'ultima puntata stiamo descrivendo il canto decimo dell'inferno in cui dante aveva incontrato farinata molti mi hanno molti uno mi ha mi ha suggerito di prima spiegare quello che quello che sto per di questo per parlare poi leggere direttamente dante quindi proverò ad applicare questo sistema per essere più chiaro farinata degli uberti è stato uno dei comandanti ghibellini alla vittoria nella battaglia di montaperti vittoria ghibellina e e viene messo ad ante all'inferno fra gli fra gli atei fra gli eretici e fra gli epicurei quelli che insomma negano l'esistenza di dio e farinata è una delle grandissime figure dell'inferno vi dicevo l'altra volta incontra dante si domandano chi sono e farinata si vanta dicendo che conosceva i parenti di dante conosceva il nonno di dante e ha già famiglia guelfa e che per due volte li aveva cacciati da firenze dante risponde che si li avevano cacciati però poi per due volte sono tornati hanno cacciato loro e invece loro mentre i guelfi hanno imparato a tornare i ghibellini non hanno imparato a tornare e quindi sono rimasti fuori da firenze a questo punto c'è un intermezzo in cui compare il padre cavalcante dei cavalcanti cioè il padre di guido cavalcanti il famoso poeta che si domanda in maniera anche un pochino immodesta magari come mai se dante è lì sotto perché non c'è suo figlio che è più bravo di lui la cosa ci interessa il giusto perché ci serve per capire meglio che in realtà i dannati di questo cerchio non hanno una visione del presente come invece i dannati alle altre parti la cosa veramente bella che rende veramente farinata un personaggio di una nobiltà interiore spaventosa di un'altezzosità straordinaria e che appena cavalcante smette di parlare ecco che lui ricomincia rispondendo a quello che gli ha detto dante quasi come non interessandosi di quello che cavalcante cavalcanti che non era proprio un prebeo anzi comunque una delle famiglie più importanti di firenze aveva usato interrompere e quindi lui ricomincia direttamente dice che si dispiace per il fatto che i suoi i suoi parenti ghibellini non abbiano imparato l'arte guelfa di tornare quando sei cacciato e però chiede a dante come mai c'è tutta questo odio nei confronti ai ghibellini e dante gli risponde che è colpa di tutto il massacro che feceva appunto a montaperti quando arrivarono a colorare il fiume di rosso per il sangue dei guelfi versati e farinata a questo punto però dice sì posso capire ma mi permetto di ricordare che sono stato l'unico a difendere firenze quando gli altri volevano distruggerla leggiamo dante e palla farinata che risponde direttamente all'arte che dante descrive come quella di tornare a firenze di restarci arte che ghibellini non hanno appreso se li ha in quell'arte disse male appresa ciò mi tormenta più che questo letto ma non 50 volte fia riaccesa la faccia della donna che qui regge che tu saprai quanto quell'arte pesa qui fainata praticamente sta dicendo guarda dante non passeranno più di 50 mesi che la faccia di proserpina che rappresenta la luna la moglie di ade la signora degli infari non passeranno più di 50 pleni luni quindi sostanzialmente praticamente poco più di 4 anni che anche tu scoprirai cosa quanto male faccia non avere quella quell'arte praticamente cui farinata sta profetizzando il sta profetizzando il l'esilio futuro di dante a mi insegnano che grido quindi cerco di abbassare un poco il volume siamo nel parcheggio ad essere lunga e quindi pensavo che sentiste un po di rumori di fondo continuo con la dopo la profezia farinata domanda a dante come stavo dicendo perché c'erano tutti quei ghibellini e lui gli risponde e se tu mai nel dolce mondo regge dimmi perché quel popolo e si empio incontra miei in ciascuna sua legge on dio a lui lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso tal orazione fa far nel nostro tempio poi che ebbe sospirando il capo mosso a ciò non fu io solo disse né certo senza cagion con gli altri sarei mosso ma fu io solo laddove sofferto fu per ciascun di torre via fiorenza colui che la difesi ha viso aperto ecco farinata ribadisce che nel momento della vittoria di montaperti quando praticamente tutti quanti i comandanti ghibellini volevano radere al suolo firenze lui è l'unico originario appunto di firenze che si che si pone contro ed è grazie a lui sostanzialmente se firenze non è caduta la storia di farinata è molto particolare perché ci ricorda l'importanza straordinaria straordinaria della letteratura della letteratura di successo come può cambiare l'ambiente come può cambiare il pubblico come può cambiare la visione di una figura storica farinata era morto quattro anni dopo la sconfitta di montaperti e la vittoria di montaperti scusate la sconfitta guelfa di montaperti era era morto e in poco tempo con il ritorno dei guelfi è accaduto in disgrazia addirittura il suo corpo era stato era stato recuperato dalla tomba ed era stato gettato in arno le ossa gettate in arno quindi proprio perché tutti si dimenticassero di lui dante probabilmente era rimasto particolarmente colpito da questo trattamento ed ecco perché ne fa una figura enorme all'interno dell'inferno una figura che è talmente orgogliosa di quello che ha fatto che non sembra subire il martirio insomma non sembra subire il contrapasso la punizione del la punizione infernale bene la divina commedia ha un successo enorme e giusto un secolo dopo farinata sarà stato completamente rivalutato al punto di quando andrea del castagno grandissimo pittore grandissimo pittore del quindicesimo secolo quindi un secolo e mezzo due secoli scusatemi sì un secolo dopo dante rappresenterà una serie dei grandi uomini degli uomini illustri di firenze ecco che farinata con il suo bel capello biondo farinata probabilmente si riferisce a questo a questa sua caratteristica comparirà in questo elenco e farinata da quel momento verrà considerato verrà considerato il uno dei grandissimi del firenze passata e ci potrebbe dire tanto insomma su questi aspetti mi viene in mente per esempio riccardo cuo di leone che se andiamo a vedere esaminare situazione storica riccardo cuo di leone era lui quello che sta che vessava profondamente il popolo inglese che raccoglieva una marea di tasse e per sovvenzionare le sue guerre poi che è successo è successo che in realtà e a un certo punto ci deve andare a fare la crociata come diventa un errore a livello europeo è successo che un certo sir walter scott ci ha scritto un romanzo sopra in cui lui è quello bravo e il cartello invece è quello che si riempitasse e adesso è andata a chiedere a cento persone chi fra giovanni senza terra e riccardo cuo di leone sia sia quello buono e tutti rispondono ai beni diciamo così ai beni personali ai beni ai beni materiali ecco non mi veniva il termine comunque avevo promesso due puntate fa che sarebbe arrivato un altro grande personaggio nella nostra storia e adesso è il momento di vederlo questo grande personaggio è carlo d'angio siamo rimasti con il figlio illegittimo manfredi di federico secondo che ha portato la cavallia tedesca fondamentale per la vittoria di montaperti e a questo punto papa urbano quarto ovviamente il principale esponente del guelfismo essendo lui papa teme fortemente che se manfredi che si è già fatto incronare re di sicilia riuscisse a unire le due corone nella sua figura lui si troverbbe praticamente in mezzo e farebbe la fine del prosciutto nel sandwich e a questo punto però considerando che tutto sommato il regno di sicilia in realtà era forse in un certo senso un ferdo della chiesa perché in fondo i normanni li aveva chiamati lui per andare insediarsi ritorna a fare lo stesso giochino che fecero lui un altro papa scusate aveva chiamato i normanni per andare insediarsi ritorna a fare lo stesso giochino del suo predecessore quindi chiama qualcuno per insediarsi nel sud Italia e chiama ancora per una ancora una volta i normanni venivano al nord della francia chiama un altro nobile francese carlo d'angio fratello del re francese luigi nono perché lo ribadisco per l'ennesima volta lo ribadisco per l'ennesima volta la chiesa di roma a un accordo a un'alleanza strettissima con i francesi e dai tempi di pipino il breve che si fece incolonare sostanzialmente re dei franchi da dal papa dell'epoca quindi carlo d'angio bello contento scopre di avere vinto il feudo del sud Italia scende in Italia in realtà ormai il barno nel frattempo è morto e subendato Clemente IV che durerà anche lui tre anni sono papi che salgono al sole di Pietro abbastanza anziani e morono quindi anche abbastanza presto comunque sia arriva i guelfi fiorentini che nel frattempo hanno ripreso il controllo della città ovviamente lo coprono di soldi ricordiamo che a Firenze c'erano grandissimi banchieri si sconta contro Manfredi a Benevento nel 1266 probabilmente tradito dai suoi Manfrede Manfredi muore sul campo di battaglia e anche Manfredi è una figura che Dante apprezza molto e che descriverà nel canto terzo del purgatorio che sarà il l'argomento della nostra prossima chiacchierata ringrazio tutti quelli che sono che sono stati qui con noi Paolo, Mauro, Diego, Lorenzo e Max per aver reso la chat particolarmente vitale oggi la vado a leggere subito vi ricordo che fra sette minuti l'ombra del giannizzo nero sarà completamente su di noi e inizierà la nuova puntata dedicata se ricordo bene alle notizie alle news da tutte le principali case editrice di quei wargame che a voi piacciono tanto a me meno perché sono sempre non wargamer cercate non wargamer su ios cercate marco mengoli possibilmente giudendo anche aspettando il giannizzo nero su youtube e troverete tutti quanti i podcast che ho fatto vi dico di cercare marco mengoli aspettando il giannizzo nero perché se cercate marco mengoli e basta youtube pensa youtube pensa che sta cercando in realtà un mio quasi omonimo cantante di particolare successo e quindi vi riempite di suoi libri e non di suoi video e non mi trovate grazie ancora e alla prossima puntata e arriva il giannizzo nero alle 18 e 30 grazie a tutti grazie a tutti